salve ragazzi bentornati sul nostro canale allora siamo di nuovo qui con Dark Souls 3 e siamo qui per continuare siamo sempre Francesco e Fabio ero arrivati a questo solo nell'ultimo video adesso vediamo che cosa accade c'era là un tizio strano con qualcosa sulle spalle se carica sì carissimi carissimi allora dove vado qua che vedi se sta porta si apre infatti intanto manca a ditta non si apre se si soffriva ma io lo dico è normale dal solzo proprio le porte da lontano le vedi quelle che si aprono ti fanno caga sotto proprio si perché sei abitato che non te si aprono aspetta voglio questo tizio qua strano ah ah c'è una sega porca puttana tu sa calmo però ammazza la vita il ciao comunque alcuno alcuno sbagliato e anche vabbè però non è un malissimo cioè abbastanza facile danni da sanguinamento eh si ho 12.000 anime attenzione sarete l'idea comunque sia prima di procedere vorrei andare a potenziare il personaggio usando anche l'anima del boss che dici no l'anima del boss o no come no scusa c'era l'ora di usare comunque prima o poi sì ma magari per altri scopi tipo a me sta cosa della gente impalata mi ricorda un po' drago la mignotta che è sono i gabbiani che lasciano le piede no c'è qualcosa che tira sta roba ma non capisco da dove arriva da qua giù no comunque non erano gabbiani s'accordo vabbè s'accordo c'è un po' di differenza questo è che c'è nulla nulla no no sicuro c'è qualcosa sì sicurissimo lui no ok vabbè allora adesso ah c'è qualcosa lì sopra però eh ma lì sopra come ci arriva magari da di qua io c'ho paura perché mi piace la c'è tanta roba che c'è tanta roba sì l'anima volente in porca troia il mondo sbrigati ti devi sbrigare vai via su un culo un culo e vabbè cazzo da 20 secondi erano per la giusta sì sopra ma roba gigante ma che cazzo c'è un cane 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 no non c'è un cane non c'è un cane baffanculo 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 ci siamo capiti si baffanculo 2 ma che palle o vanno vaffanculo di nostri ardi vabbè ma allora già un battacchio non lo fai mi raccomando è uno strunzo eh qualche volta mi capita fanculo si tutte le piaschette ho fatto due metri si ma hai il problema adesso come passo che questo mi tira la peggio merda me la dirà ancora dove dici ah che cazzo è non lo vedo pesamica cioè c'era un messaggio all'esimo morte ma dai vabbè ma porca troia che sega adesso dimmi come cazzo le prende ah non lo so che sega però non c'ho idea ma come è possibile ma è legare una cosa del genere non lo so non posso fare un cazzo e questo mi tira la merda inizialmente i non morti il posto il posto allegrissimo questo comunque è figo eh mi ricordo un po' se non puoi essere arrivato quando non lascia nulla no no perfetto allora a questo punto no fammi li ucciditi da lui eh guarda guarda passano loro non attacca ah ok attaccano proprio cuore c'era un messaggio da leggere c'ho paura dove c'era un messaggio a leggere no no più avanti più avanti sotto l'albero proprio aspetta un secondo che magari smettete di rammela la roba ma che cazzo però dai lasciami un secondo te pace puh niente non ne frega nulla lui perfetto bravo se fa così giovane ramo bianco giovane ramo bianco vabbè ho capito muoio basta deciso questo era come il fuoco del drago ha preso lui ha preso lui ha preso lui no no mai a me mai a me e se io metto qua sotto in effetti non lo so non ci arriva vabbè vabbè tranquillo io direi che cazzo è ti accorgi troppo tardi ok qui non me sta a tirare perlomeno le anime un po' mocazzate ma se io ti usassi il binocolo per vedere eccolo eccolo no scherzavo chi diavolo è qualcuno eccolo è quello lassù forse eh sì è quello là che gli faccio tu fai dentone niente e che gli faccio niente a questo punto le anime dove sono non lo so manco io eccole le frecce del gigante eccole ci ho fatto caso tu eh vabbè ma tranquilli mettetevi d'accordo oddio io ti ho detto toccare ma porca puttana le anime per aumentare il livello perché non me da retta perché quello è finito di puttana no perché se non mi attaccava non ci sei avuto andare a parte quello però se quello stronzo non mi attaccava prendevo le anime magari che le paolo però prendevo le anime che palle si va bene dai fanno cosa a casa funzionano mai va bene sanguinamento evviva sono morto bello praticamente no non sono morto ma non so per quale santo san gennaro penso salvame te oh sto dietro a te continua a piame ma te rendi vabbè lasciamo va bene ragazzi anche questo anche questo è finito date pace faccio io faccio io dai c'è sto punto poi dice uno deve rimanere calmo se non gli piallembolo scatallembolo ischemia istantanea no è facile pace ma ci vuole pazienza lo sai ovvio le anime sono poche però piene sono zero sono zero sono poche bella merda c'è la stamina voglio anche una sega del genere ci fai ammazza la gente cioè lui attacca davanti e più anche a me che so dire va su qua c'è l'oggettino là quello strano no ci si arriva però no non so come se prende quello è proprio un mistero della natura comunque sto gigante mi ha rotto il culo andendo più avanti vero per farlo attivare ancora più ok va bene così ma se questo si faceva le cazze sono invece le anime perché oggi c'è l'incubi basta non piovono presso la bedulla bianca ma non mi pare perché io stavo in culonia intanto le lanci giganti vabbè quando serve qualcuno dalla mano non ci sta più nessuno da sinistra non fa un culo si però vedi c'è la roba di ciove cadono vicino alla bedulla bianca sto cazzo ho preso tutto non si sa che cazzo era un po' ceneri del becchino molto bene no ma da guarda dove sei andato a morire dopo ho capito non pensavo che è in genera una mia di fuga che cazzo ho preso tra l'altro non lo so avevo preso tutta roba blu tipo si si ho visto un po' ti era abbastanza roba colorata tutta roba strana blu scudi armi spade qualcosa del genere l'armatura completa probabile prova a vedere allora inventario no va a fare l'accompagnamento l'accompagnamento va a fare l'accompagnamento almeno te fa anche la te lo compara insomma questo parte dall'elmo ok madonna cappello da chierico la roba da chierico ma alimenti certo sei semisexy sei veramente carino metterlo di dannamo sembra il genere della tartaruga no ma lo sai perché c'ho odia che il gigante non mi tiri si sta così così a caso no c'ho st'impressione magari mi sbaglio cioè lui corre con la sega in mano ti prende uguale solo perché ti ha corso con vai che sei incazzato guarda devi capire che è una sega non è un mattello però non mi fa meno danni eh non boh non lo so sinceramente non mi sembra come adesso vediamo se mi attacca con me secondo me se ne sbaglio il cazzo ecco la lancia gigante là solo che tu la senti quando ormai è troppo tardi perché te sta addosso aspetta non avanti tirata forse se vede cazzo voglio apporto guarda perché già tirata quindi è evita c'è un po' un po' ma la adesso sei morto le questi iniziano d'arte berle guarda guarda questo testo ricorso che ti sono molto sensibili guarda in avanti e vabbè fallimento di questo episodio tragico mamma io la stai visata e fa veramente piangere vabbè dato un uomo racconto morire morire su morire contro un gigante di petta rimettere un labbidi perché in culata forse che tanto dice cambia c'era che c'era nessuno questo punto 1 torniamo a cavaliere corri via non aspetta sai che sarebbe da dal verso di quattro non è andato quello di sotto ma sul serio penso perché qui non c'è più misteri della vita quello si è caricato senti che tecnicamente dico allora lui adesso tirare la lancia qua buono buono mandiero qua dietro perché ok valla prendi le anime che vabbè su 500 questo è passato si rimane lì a fermo 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 non te muove bravo bravo massa che lanciano ah ci ha lasciato un oggetto merda vabbè prendi le anime poi corri subito a destra oppure entra qua dentro e cerca di ammazzarli tutti male perca puttana qualcuno te l'ha ammazzato lui comunque guarda come l'ha messo no questo è quello rosso perché rosso non lo so c'è la furia no non lo so comunque qui perlomeno girmente al sicuro sei un pochino al sicuro ti dico un pochino si si leggermente si corri e salta la corri e saltare caputana devi vedere mentre cammini per il ricerchio e poi il bello il piano che è scritto se non muori si tratta la lancia anche per sbaglio ma come fatto a togliere tutta quella vita che sei caduto da un metro e mezzo caputana oh bella questi c'è qualcosa di potente guarda quanto è grosso falce pesanti ma come si fa ma come si fa ho un fallo volare adesso possiamo ammietare il grano bene via che qui non ti dovrebbe romper il cazzo nessuno non lo so ah c'è un brutto presentimento pure io però perlomeno non c'è sta la minchia oddio c'è sta una piccola lampiata che significa caricato qualcosa no ci siamo si 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 poi possiamo bene ragazzi allora siamo arrivati alla fine del video come sempre ci sono dove tu sei sempre sicuro che mi fai dei faste cose eh no non so sicuro mai però c'è un messaggio grande albero maledetto più avanti grande ok torno indietro ok va bene ragazzi come sempre iscrivetevi al canale e continuateci per continuarci a seguire e seguitici anche sui vari social ci vediamo al prossimo video di dark souls 3 un saluto dagli disaster ciao ragazzi ciao 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 ciao